L'Ital Service diventa la casa della Champions League di calcio a 5, Rimini diventa la casa europea dell'Ital Service. Una combinazione che farà sì che dal 27 al 30 ottobre l'RDS Stadium di Rimini ospiterà il main round di Champions League con l'Ital Service organizzatrice della Kermess. I pesaresi debutteranno il 27 ottobre alle 20.30 contro i russi del Tumen, il giorno dopo di nuovo in campo alla stessa ora con i polacchi di Pilsen per poi concludere sabato 30 ottobre alle 18 con la squadra kazaka del Caira Talmati. Un grande evento presentato oggi all'RDS Stadium che onora sia l'Ital Service che la città di Rimini. Un evento importantissimo, anche difficile nella realizzazione e nella gestione. Allora la gestione, iniziamo da fondo, è complicatissima perché comunque organizzare un evento di Champions con tutte le procedure, con tutti i regolamenti che ci chiede la UEFA è qualcosa di veramente assurdo. Però voglio dire che stiamo lavorando, come ho detto anche in conferenza stampa, non tanto il Presidente perché il Presidente è un po' la facciata, però ci sono dirigenti, c'è mia moglie Simona e tutti i nostri dirigenti che stanno lavorando sotto tracci in maniera molto importante, in maniera costante, assidua e quindi questo è un ringraziamento che voglio fare veramente a questa società. Detto questo è importantissimo che un ente come la UEFA, che è il massimo ente europeo, chieda all'Ital Service, quindi una società che in fin dei conti sono solo tre anni che si è affacciata sul campo europeo, chieda di organizzare una Champions qui in Italia. Quindi vuol dire che veramente l'Ital Service è molto ben attenzionata sotto i riflettori europei e vuol dire che l'Ital Service sta diventando importante non solo a livello nazionale in questo sport, ma soprattutto anche a livello europeo e quindi a questo a noi ci fa molto piacere perché ci fa capire che comunque si stiamo muovendo bene, stiamo facendo le cose in maniera seria, come abbiamo detto in conferenza stampa, siamo persone semplici, persone pulite, persone che però lavorano e che stanno lasciando un impronte importante alla città, alla regione e soprattutto questa volta Rimini, che comunque ringraziamo perché ci ha ospitato. Allora un appello a tutto il pubblico di Rossini TV, il pubblico regionale di Rossini TV, dove dovete approfittare di questa occasione perché a pochi chilometri abbiamo poi l'autostrada comodissima che ci porta a Rimini e soprattutto abbiamo anche dei biglietti molto economici. Sì, perché allora intanto le persone che possono venire a vedere le partite, la RDS ha un numero di persone circa di 5.000 spettatori che possono entrare, il 60% sono circa 3.000, quindi possono entrare a vedere questo giro di Champions League circa 2.700-2.800 persone. Abbiamo cercato di mantenere dei prezzi molto molto popolari, quindi 15 euro facciamo un mini abbonamento che vale per tutte le tre giornate, la singola giornata perché ci sono due partite a giornata costerà 7 euro. Quindi per rendere accessibile questo partite, questo girone a tutte le persone nella massima disponibilità. L'appello è quello di vedere tanta gente, di vedere il palazzetto pieno, anche perché per noi vorrebbe dire vedere realizzati tutti i nostri sacrifici. È un bel momento perché c'è la voglia di vivere dall'online all'on live, un momento sportivo, un momento di condivisione. Facciamo una struttura validissima come l'RDS Stadium, una città in cui le cose avvengono, come Rimini. È un momento di condivisione, di partecipazione. Bene che questo evento abbia scelto Rimini e Rimini è pronta a raccogliere con la sua voglia di partecipare, il suo sorriso, a questo evento importante. L'Ital Service in realtà rappresenta tutta l'Italia, cioè in questo caso veramente la società sportiva ha un grande onore, un grande prestigio, ma soprattutto anche una grande visibilità europea. Soprattutto un grande onore per una società giovane come la nostra poter rappresentare per la terza volta consecutiva il nostro paese in Champions League è un'emozione enorme. Siamo emozionati, oggi lo dicevo in conferenza stampa è una giornata di festa per noi, perché davvero tutto il mondo che rappresentiamo oggi può festeggiare. Noi siamo una realtà giovane, una realtà che in pochi anni è riuscita ad arrivare ai vertici in Italia e in Europa, tanto che la stessa UEFA ci ha chiesto di organizzare il main round, quindi davvero siamo molto molto orgogliosi. Più che l'honor abbiamo la soddisfazione dell'onore. Grazie. 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 Grazie.